Ed eccoci su un nuovo episodio di NaZona Eleven Go Chronostals Randomizer Fiamma. Nello scorso video abbiamo recuperato il manuale che sembra contenere informazioni su come creare la squadra invincibile. Manuale che è stato scritto da David Evans in persona. Però è morto quindi siamo andati indietro nel passato per andare a vedere dove si era rintanato. L'abbiamo cercato di convincerlo a dirci su come decifrare il manuale ma ci ha dato picche. E quindi cosa succede? Arriva la protocollo Omega che vuole sfidarci. Ed eccoci alla sfida contro la protocollo Omega. Per fortuna loro non sono i robot che abbiamo combattuto l'altra volta. E cominciamo con questi insegnamenti che poi no. Tutto sommato loro potrebbero andare ancora più indietro nel tempo e sottrarre il manuale prima che lo sottraiamo noi. Però siccome il viaggio nel tempo è spiegato male qui, le cose stanno un po' riversamente. Chi c'è là? Io sono Sky Blue. Sono una delle manager del club di calcio della Raymond. Allenata da Mark Evans. Nel mio tempo Mark Evans è un allenatore famoso. Ci ha aiutati a vincere il campionato nazionale. Non voglio prenderla in giro, signore. Il mister lo dice sempre. Il compito più importante di un allenatore è quello di proteggere la squadra. Lo supplico. Non vogliamo perdere il calcio. E nemmeno il nostro allenatore. Va bene. Vi dirò quello che ho scritto nei miei appunti sulla squadra invincibile. Davvero? Oh, siamo pronti allora per questa partitozza? Ecco sempre Gammon pronto a commentare. Questo prima o poi la moglie lo caccia di casa. La scorsa volta la Raymond è stata spazzata via dalla protocollo Omega 2.0. La scorsa volta la partita era già 10-0 a favore loro. Non c'eravamo noi a combattere fin dall'inizio. Noi siamo entrati quando già era 10-0. Grazie che siamo stati spazzati via. Facile vincere così. Livello squadra 16. Il problema è, qui non è che vince questa vince tutto, però io ci provo. Oh cielo. Non metterete le mani sugli insegnamenti? No, eccola là. Dimiter, hai anche un po' rotto, eh? Prendi sta cavolo di pada. Non fai pena, c'ha ragione. Guarda, ti vorrei stringere la mano perché hai veramente ragione. Dai, dacci un bel pugno in faccia. Ah, comando di attacco. Vabbè, una pallonata, eh vabbè. Eeeh, le capriole. Un po' se lo meritano. Vi state pentendo di averci sfidato? Mica tanto, sento che ci hai sfidato. Ah, ma lui è invincibile. Certo, un gol devono farlo. Che cosa vi prende? Non c'è bisogno di essere così disfattisti. Il maestro. Il maestro? Allora è così che mi chiameranno nel futuro? Beh, l'importante è che ora creda a quello che gli abbiamo detto. Da questo momento in poi siederò io sulla panchina. Wow. La chiave della vittoria sta nelle 3D. Sì, ma perché stai perdendo sottovoce? Forse dribbling? Forse difesa? O forse... Tre dimensioni? Ok, riempi la barra di avanzamento. Ah, posso passarla quindi? Va bene allora. Oh, evochiamo Amaterasu. Vai, bella donzella. Cavalca. Il tuo destri... Cioè, lei veramente è un destriero, non è che lo cavalca. È lei stessa il destriero. Ti sfondo la cabeza! Vai! Levatevi di torno! Passa più forte di tutti! Ti sfondo il cr... No, meglio non dirla. Eccolo qua! Disfatto! E ora... Tirerò anche in porta! E segnerò un po'... Oddio, forse non segna però. Se usa una tecnica potrebbe... Non la usa. Bene, posto. Uno pari. Beh, evochiamo anche lo spirito di Dimiter! Però il mio è un pedone bianco. È un soldato d'assalto come il gigante d'assalto. Però io uso una tecnica... Sorpresa solare! Non serve a niente. Dimiter! Non so, armatura? E facciamo... Care taglienti? Funzionerà? Forse con l'armatura ce la facciamo? Oddio, dimmi che ce la facciamo? Perché lui attacca, però io voglio prendere la palla. Quindi la difendo. No, quindi l'attacco anch'io o l'attacco? Sì, l'attacco è quando voglio rubare palla. Non quando ce l'ho perché la voglio difendere. E che è molto strano, ma in zoom eleven funziona così. E anche questo è bello. Vai, Cantrup, che ha un occhio diverso dall'altro. Forse ha capito? Danzare, destreggiarsi e dimenarsi! No. Non è capito niente, invece. Si è dimenato un po' troppo. La squadra avversaria si è fermata. Perché? Cosa? Eh, ma che salame che sei però! Chissà perché si è fermata. Non sanno cosa fare. Per un attimo i nostri avversari non sapessero come reagire. Non molliamo! Forse non si aspettavano che la palla arrivasse da quella direzione. Perché loro hanno già fatto questa partita. L'hanno studiata. Hai capito i salamelli! Hai capito i salamelli! Va bene, allora. Facciamo anche questo gol, dai. Eccolo qua. Per sbaglio ho premuto sul campo invece che sul personaggio. Quindi ho detto, teniamola. 2.46. Questo dovrebbe essere un altro gol assicurato. Anche se usava tecnica. Incontro l'avvicinato del terzo tipo e vai dentro la porta anche tu. Terzo tipo perché le 3D sono anche le 3T. Terzo tipo. Rete. C'è comunque un atti dai. Va bene, uguale! Conta, le carità di enti contano! E ti trangono le zambette! Zanghe te! Oh! E non muoverti più! E stai lì! Ti fico un dito dentro l'orecchio. Allora. Una soluzione a tre dimensioni. Ecco di cosa si tratta. Eh, ci sei arrivato alla fine. Io è giù di shark. Provate ad allargare le maglie della difesa avversaria. Le maglie. Cioè, intendi, deve allargargli. Quindi dobbiamo chiamare uno grosso che si mette le maglie degli avversari. Dovete sfruttare anche lo spazio in aria! Oh, basta così poco per entusiasmarli? Sarà che le menti semplici si accontentano di semplici soddisfazioni? Sarà che stiamo due a uno per me? Oh, sfondamento! Aspetta, che mo' lo ricarico. Perché se lo ricarico, poi, può continuare a usare lo spirito guerriero. Però non posso ricaricarlo, ma... Purtroppo così lo consuma molto di più. E ora, scoccata rivalista e facciamo il 3 a 1! Altro che menti semplici, cara mia! Qua state perdendo alla grande! Ma non ti vergogni? Non provi un po' di amor proprio? Lascia il campo e vattene! Allora, piccoletto! Rosa! Evoca Pendragon! Eccolo qua! Fagli vedere chi comanda! Oh no! Amare al petto! Non ti accasciare, Dimiter! Che attacco? Anche lui attacca, però io... Ho più punti! Quindi dovrei vincere, in teoria? Dimmi che vinco, dimmi che vinco! Ho vinto! Ho vinto! Lui si è finito lo spirito! Lui barra lei! Comunque! Non vorrei usare i pronomi sbagliati, perché poi la gente si offende! Io li brucerei i pronomi! Ma comunque! Chiamiamoci tutti quanti! Ehi tu! Vedi che dopo non si creano problemi! Vai col virtuoso! E vai! Ce la faccio a fare virtuoso! Let's go! Guarda che passaggi perfetti! Questi dovrebbero chiamarsi passaggi perfetti! Mannaggia a... I pesci! Ma se io premo... Vedi ora me l'ha preso! Ho... Giuro su... Ho premuto! Molto più in basso del personaggio, ma l'ha preso! Quindi devo premere più in basso, effettivamente? Mi stai dicendo, gioco, che io devo premere più in basso del normale? Mannaggia a te! No, non devo evocare niente! Lascia stare! Potevo evocare Cantrup! Però... Bah, c'è Alex comunque! No! Non me li frega entrambi! Oh, Cantrup! Però... Quanto sei una pippetta, eh! Mo lascia che te lo dica proprio in amicizia! Vabbè, comunque sta per avvicinarsi alla fine del primo tempo! Siamo in vantaggio! Direi che... Magari, Sting, tiratela un po' di meno, eh! Eh, tu ragazzino ha dei capelli a punta! Effettivamente ha comunque i capelli a punta! Se non riesci a trovare la soluzione, perché non provi a mangiarlo? Mangiare che lo spirito gli mangia la spada! Che cosa gli mangia? Mangiare il mio spirito guerriero! Ma che significa? Ci pensiamo ne a vincere! Tu mettiti pure in un angolino a riflettere in pace! No, Sting! Tranquilla! Io vincerò proprio ora! Ma è possibile che ancora non lo capisce che vanno a perdere? Eh, vabbè! Allora! Senti! Però senza armatura sta... Ah, ecco! Mi sembrava strano! Intanto si è consumato pure i punti! Oh, guardalo! È da solo! Guardalo! Fammi un bel... Furia elementale! Spara meno nerviso! Guardate il portiere! Quanto fai? 131! Vabbè! È ancora acerbo! È ancora un po' acerbo! Potrebbe farcela e ce la fa! Wow! Ma il portiere non si definisce mai i punti? Quante volte è che farà? Sting! Vuoi ancora vincere? 4 a 1! Dico! Difesa! No, vabbè! Qui c'è un problema di fondo! Mi fai ammosciare! Eh! Che facciamo rosa? Fai pena! Ritirati! Ma vado con magnetismo sempre care taglienti! E dovevo fare care taglienti! Vedi? Mi ha fregato! Che dribbling! Ah! Allora vedi? Vedi che sono fallosi proprio loro? No, vedi allora che c'è un problema di fondo? Oh! Oh! No, no! Non ho più punti! Allora io faccio il cucchiaio! No! Magnete sta peretta! Ah! Oh! Ok! Ok! Fai però il giro... Ecco! Il giro della... Della quaia! Armatura! Della signora! E via! Spadone elettrica! Niente da fare! Giro che si quaia e in porta! Ah, un tiro normale? Pensavo di sì invece. Ma va bene, 206. Questo non para più neanche le mosche. Ed è andata. Ma che bravi che siamo. Vai. Dai pugni all'aria. Oh. Ma è carica la barra, eh? Ti prego, ruba palla, Rosa. Ruba palla che non ne posso più. Ruba sta palla. Ruba sta palla. Arrubatela. Cos'è un treno? Per proteggere il calcio devo diventare un tutt'uno con il mio spirito guerriero. Ce l'ha fatta. Sei riuscito a indossare l'armatura anche tu. Ma perché mangiarlo? Prof può indossare l'armatura. Fa strano ancora. Oh cielo. Sfondamento. Grande. Cavolo però, è forte, oh. Accipicchia. Tiro. Furia elementale. Scatena di tutta la tua potenza. Bomba. 3,87. Si vola. Let's go. Bebe. Grande. Sì. Ma è così. Un passo alla volta verso la vittoria. È uno scherzo, vero? No, siamo 6 a 1, tata. Non è proprio uno scherzo per niente. Dovreste averlo capito prima. Però va bene. Oh prof, ti vuoi fare un altro giretto sull'area avversaria? Vai, va. Vai, sfonda tutto. Vai, sfondata. Via, meno uno. Altri due insieme. Sfondati anche questi. Dai, fammi vedere. Magari poi gli rubano palla. Perché sai, intanto lo spirito guerriero gli gira male, gli gira e non fa nulla. Anche questo qua facciamo il giro della quaglia. Eccolo qua. Vai, Belial, fatti sotto. E niente da fare anche per te. Ah, quello proprio, quello sta a guardare. Madonna, vuoi anche il portiere. Oh, davanti alla faccia. Allora. Non dovrei perdere solo un punto, forse, dovrei perdere sul tiro. È un bel 300... 246 debole. Arriva a 246. Neanche un punto ho perso. 7 a 1. Sting. A casa. A casa. Magari, guarda, uso anche una tattica per... Ma un tiro lungo, invece. Perché furia elementale qui è lunga. Non ricordo se anche nel gioco normale è un tiro lungo. Ma non mi pare. Ma comunque, arriva in porta a 182. E non la parla. Allora, aspetta. Siamo 8 a 1. Vabbè. E questo praticamente è la rivincita per la partita scorsa. Ci stiamo prendendo una piccola rivincita. Vorrei essere all'im... Allora, qui conta il livello. Per smarcarsi lo spirito conta un pelino il livello. Che mi fai, Tronom? Barriera di forza ti faccio io. Vai, bel tiro, eh. Campione. Barriera di forza. E la palla vola via a casa. E allora siete recidivi siete voi, eh. Vai, tiro normale, te la paro. Non la para. Oh, cielo. Non serve dire alto, no? Ma stai zitta, almeno. Abbi la decenza di tapparti quel buco dentato. Sting. Volevo attivare lo spirito guerriero del portiere. Però ho detto un po' troppo. Facciamoglielo fare un altro colpo. Facciamoglielo credere. Il tifone per El e presa oscura. Coldstair. Sei un centrocampista. Fai centrocampista, no? Certo. Finora non hanno giocato al massimo delle loro potenzialità. Ah, certo. Questa è la scusa di tutti. Volevamo farvi credere di non essere all'altezza. Ah, certo. In quanto a lei, maestro, è il momento di sparire. Ma lascialo stare che tra poco muore di vecchiaia, poverino. Lascialo stare. Modarità CG. Vogliono imprigionare il maestro. Proprio come hanno fatto con l'allenatore Evans. Cosa? Non possiamo perdere, non adesso. Signor Ida. Fermo. Sta resistendo con la sua forza di volontà. Che cosa hanno fatto? Una pietra. Facci picchi, è diventata una pietra. Questa è la fine del calcio. E gli insegnamenti del maestro sono nostri, ora? Eh, beh. Del maestro è rimasta solo una pietra. E che ce ne facciamo, ora? Possiamo buttare cesso. Il vostro stimato allenatore è stato tramutato in un paradosso spazio temporale. Ma come? Eh, tutto questo gioco è un paradosso, veramente. Ma comunque, come risultato, la sua intera esistenza è stata compressa all'interno di una pietra chiamata per l'appunto Crono Stones. Come il gioco. Che vecchietto irresponsabile. Ehi, ma quella pietra parla! Il solo modo per aiutare gli Evans è creare la squadra invincibile. Eh, che come facciamo? Signor Evans, la prego. Ci dica come trovare gli undici campioni di cui parla nei suoi appunti. Ma qualunque cosa facciate non riuscirete a reclutarli. Volete ancora che ve li descriva? Beh, sì, dai. Arrivati a sto punto. Molto bene. Ora ascoltate attentamente. La squadra invincibile è composta da undici fuoriclasse. Il primo è... Il non è di calcio. Ma no, ma dimmi, i giocatori! Voglio saperlo ora! Vabbè, finiamo qui l'episodio che vi devo dire. Per ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video in descrizione. Trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!